Ci vogliamo bene figlio, torna a casa, noi siamo molto preoccupati per te. La mamma non sta bene, non dorme né notte né giorni. Si stringono nel dolore e si fanno forza a vicenda. Il padre, il fratello di Osama, il 14enne marocchino scomparso mercoledì mattina dalla sua casa di Salice e Salentino. La famiglia del ragazzino respinge l'ipotesi di un reclutamento in gruppi organizzati terroristici ventilata nelle scorse ore dal procuratore capo di Lecce, Cataldo Motta. Siamo certi si tratti solo di una marachella adolescenziale, come già accaduto in passato, ha spiegato il console italiano in Marocco nel corso di una conferenza stampa nella moschea di Lecce. Si sarà sicuramente allontanato sperando con qualche amico per una passeggiata e un ritorno di gioventù. Non pensiamo a nient'altro. Le strade che la procura sta vagliando e non soltanto la procura sono ampie, ma non per questo possiamo pensare che quello che ha definito il procuratore capo sia l'unica strada da percorrere. Non vogliamo pensare che sia caduto e sia scivolato, sia andato al mare e magari si sia fatto al mare del male. Vogliamo semplicemente pensare che il ragazzo a breve ritorni a casa. Mercoledì mattina il 14enne è uscito da casa e si è diretto verso la stazione ferroviaria di Salice. Di certo è arrivato a Lecce. Osama è stato infatti ripreso da una telecamera di videosorveglianza mentre si aggirava sui binari del capoluogo salentino. Poi più nulla e non è escluso a questo punto che abbia lasciato il territorio nazionale. La foto di Osama è stata diffusa alle forze dell'ordine di tutta Italia.